Pesticidi Regolarmente ci viene detto che i pesticidi non sono pericolosi per la salute. Di anni più tardi, noi realizziamo che molti persone soffrono di tragedie silenziosi, loin di noi, al fondo di l'hospitalo. Le pesticidi sono oggi presenti in tutto il mondo. Si i pesticidi tuono i animali e i planti, quel impact si sono? Il governo è vero. Il governo è vero. Il governo è vero. Il governo è vero. Puoi aiutare il nostro agricoltore a dire il nome dei pesticidi. www.mesmerism.info www.mesmerism.info